Buongiorno a tutti amici da Giuseppe, buon sabato 27 gennaio, guardate che belle queste foglie qui trovate nell'orto sotto casa con il fiore, questa che è la crispinia, questa crispinia, poi poi c'è i grugni, le pappatelle non c'è, le caselle, le caselle non c'è, insalata o foglie, va cotte no, ci ricorda certo che va cotte, ci ne cogi ne cogi, quelle cotte va mangiata come foglie, quell'altra è insalata, come erbe no, come erbe, quelle cotte, mangiamo o no? Mangiamo quel dici tu, vale adesso il video finisce qui e ci sentiamo, vediamo ai prossimi video, ciao a tutti, che bella pasta che devi cogiare, che pasta cogio, corta o lunga? vecchè non ho piuttosto che bravo curta, non hai affermante. E quelli che vanno in giro, quelli che vanno in giro, gli amici di Sandra. Poi qui c'è i grugni, poi c'è i papatelli, poi c'è l'erbe di campo, le crispigne. Questa per esempio è rovinata, questa è rovinata, questa qua, è una che tagli l'erba, ci lascia tutta. Ma dopo come fai se la taglio l'erba a pia e foglie? Ma queste stanno attorno. Non le trovi no? Stanno attorno, non mi cassa a me. Ecco quelle capate. Grazie. 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 Grazie.